Signori e signore, lui è il conte Ugolino Mosca, ricco bergamasco mercante, che si stabilì in città, ma dovette partire per una spedizione tra la Lega Norte e l'Ottomano, ed eccolo che in una battaglia navale che avvenne a Lepanto per salvare la vita Marco Antonio Colla, venne colpito da una bombarda, e così gli venne un bubo grande quanto il tubo di una stufa. Ma lasciò in patra la figlia Eugenio Mosca, che subito venne perseguitata dai suoi persecutatori, ma... Credito, credito. Pardon, messier, creditori, ma subito dovette vendere tutti i suoi beni a un certo Don Francesco Melaroni Bernazza, ricco mercante pesarese, e lui subito ci innamorò della bella Eugenia. Marco, ti voglio, Marco! Ti prego, risparmiateli da vita. Lui è Santino, l'amante di Eugenia. Lui è un ladro, infatti Don Francesco lo ha scoperto mentre stava frugando nei suoi centri al porto. Morto, lo voglio morto! Provatevi, saldete il coraggio, ma voi mi provocate, sì! Fatevi il dono della vita! E io cosa ti guadagno? Me! E fu così che Eugenia ci tolce la sua virtù, ma Santino ci urrò di vendicarla e di liberarla. Pulcinella! Ehi, lei è Corallina, la servetta di Eugenia, ma è anche la mia namorata, vero Corallina? Oh, per essere innamorata sono innamorata! Di me? Anche! Come anche! E dipende! Ma cosa? È da quello che farete per avermi! Corallina! La mia padrona mi chiama! Corallina, devo assentarmi per un paio d'ore, devo andare giù al porto a preparare una spedizione per gli emirati arati. Io ho preparato un grosso carico di maioliche preziose. Ma buona maiolica! E orinali, orinali tutti portati d'ora. E per gli emiri? Certo, per gli emiri, perché anche gli emiri di notte si alzano e la fanno insolvano! Basta con queste domande! Piuttosto, tornate nelle stanze del palazzo e andate a controllare che nessuno, dico nessuno, si avvicini alla mia amata Eugenia. Nessuno! Vado! Corallina, arrivo! Padro! Ma voi gli siete proprio gelosa! Io geloso! Io sono rosso dalla gelosia! E per forza! Voi se ne è insurato con una guagliana così idiomada! Pulcinella! Come vi permettete di rivolgervi in questa maniera? Scusate, signor malattorio! Molaroni, molaroni! Trozioni, trozioni! Voi, Pulcinella, smettila di parlare in questa maniera! Scusate, ma vai rivegare, se volete, io tengo un bellissimo mezzo per sfuzzinare carna! Qua, non sposarsi! Voi, Pulcinella! Sfazzia il dato che non sei altro, basta con tutte queste paginate! Piuttosto, devi farmi un lavoretto! Che cosa? Devi andare su al porto a controllare se è arrivato Marco Antonio Colonna, l'amico dell'ex padre di Eugenia! E perché, ex? Ex padre, perché una volta era il padre, adesso è morto! Oh, va bene, sbiose! Vabbè, io vado! Dove vai? Al porto! Vengo anch'io! E allora? E allora, seguitemi! Io vado! Ho deciso di togliermi la vita! Ho deciso di togliermi la vita qui, di fronte al Palazzo Mosca, perché il suo attuale padrone mi ha rubato la mano della mia, della mia innamorata! E allora ho deciso di attirare qua la sua attenzione, con lo spettacolo più grosso che posso fargli! Il mio suicidio! E allora mi fa al cantono!